Sono Laura Antichi, vi voglio mostrare come accedere a Mozilla Hubs scrivete Mozilla Hubs nella casella di ricerca di Google il primo risultato che è disponibile è quello giusto clicchiamoci su, questa è l'interfaccia non è indispensabile registrarsi ma se non lo si fa una volta chiuso il sito l'attività viene persa interessante tuttavia la possibilità di non registrarsi per gli utenti più giovani che possono accedere, partecipare, interagire alle stanze dedicate e predisposte dai docenti esploriamo un attimo l'interfaccia trovate la voce Spoke Spoke è l'editor di Mozilla Hubs che avremo modo di esplorare in seguito ci sono le guide molto interessanti che trovate proprio tutte le guide relative a Spoke, Avatar, agli eventi eccetera eccetera Soprattutto sono distinte in Apps documentation, Spoke documentation, for creators, for developers Apps cloud, Apps cloud AWS, Apps cloud Digital Ocean noi ritorniamo comunque della nostra interfaccia abbiamo poi l'approfondimento dei developers ecco e qui tutte le risorse che gli sviluppatori hanno messo e mettono a disposizione c'è la possibilità di partecipare a una community molto interessante di accettare l'invito e di quindi interagire anche in questa zona poi c'è la Apps cloud interessante anche questo ma è a pagamento e permette di gestire l'infrastruttura a livello aziendale quindi questo per il momento non ci interessa abbiamo invece l'EBS, i laboratori sono degli interessanti luoghi da esplorare che per condividere idee sono presenti dei suggerimenti dei tutorial, dei progetti di ispirazione e vengono anche erogati secondo il livello di abilità che abbiamo dai principianti all'internet offrono interessanti strumenti, tools che sono anche questi da esplorare una volta che abbiamo preso dimestichezza con l'interfaccia può essere utile partecipare alla Mozilla Apps Creator Discord quindi a Discord che è un social in cui condividere le proprie esperienze scambiarsi proprio scambiarsi quindi le proprie novità io adesso andrò tra poco a creare una stanza ma volevo innanzitutto farvi vedere questa interfaccia alla prossima grazie a tutti